A partire da questo momento, l'ultimo di voi che esce dal campo da calcio, dal mini campo da calcio, vincerà 100 euro, signori se ne carici, let's go! Ovviamente ci saranno di mezzo delle sfide assurde, ma ovviamente, come al solito, dovete anche prima iscrivervi al canale e prima di fare. Io sono già iscritto. Davvero? Sì, davvero? Oddio! Iscritto? Iscritto per forza! Iscritto? Iscritto? Iscritto. Iscritto anche tu? Bravo. C'è un problema, io ho un attacco di... Devo andare in bagno. Fai così, no, no, fai così, fai così. Falla così, falla dal culo vero, vai. Ora, ragazzi, basta, basta, ragazzi, stop, ragazzi, stop, dobbiamo fare... Oh, Dio! Sembrava un elicottero. Io voglio vincere 100 euro. Ragazzi, per vincere 100 euro in realtà è molto semplice, non potete uscire dal campo da calcio e per adesso, per i primi 10 minuti, non avete niente. Dovete solamente passare il tempo, ovviamente siete in un campo da calcio, quindi vi passerà una palla, capito? Oh, grazie. Ovviamente. Io direi, non tira paura, così almeno siamo sicuri che non va fuori. Dobbiamo per forti due minuti. Altrimenti se la palla va fuori, se la palla va fuori, non vogliamo prenderla. Per forza giocare a calcio, ma facciamo voi i passaggi. No, no, non buttiamola fuori, eh. Ragazzi, ho visto che la palla è uscita, ma è il momento della prima challenge. Questa era gratuito in realtà, lo volevo fare, ma... Ragazzi, prima challenge sarà una gara di precisione. Volevo sapere che durante tutto il video voi avrete tre vite, ogni volta che perderete una challenge, ne perderete una. Prima che perdere tre vite va fuori dal quadrato. Oh, guardate, è chiaro? Come mai sarei prima di uscire? Ma perché devo essere sempre io? Ma per favore, ma su, un po' di sostegno. Ragazzi, qua abbiamo una sfida di precisione. È una sfida molto semplice, ok? Come vedete, in porta sono sconati casualmente due coni. Ma che l'ho fatto? Sì, è possibile. L'obiettivo è dall'altra porta prendere in mezzo ai due coni. E adesso, su, ascolta, ci stava la pena la palla, guarda. Adesso hai tre tentativi a testa, chi non ce la fa in tre tentativi perde una vita. Bravo. All'interno. Fa l'interno, gli adiam buona, gli adiam buona. Vai, c'è me lo sovaglia. E lo posso fare come voglio. Pua, non sopra la finestra. Basta che non lo fai, Pua. Con i piedi, Pua, fanno un capolai alto. Uh, tentativi andato. Va bene, va bene, ragazzi, va bene. Qua, raga, mi sa che perderemo tante vite, eh. Ho questo presentimento. A boh. No. Grazie. Via, quindi l'avete persa. Conti? Mi ha fatto per la prima vita. Ragazzi, ci penso io. Assurdo. Ci penso io, mi faccio vedere come si fa. Ragazzi, ma non è così tanto difficile, dai. Ascolta, parla per te, oh. Allora, ho capito qual è il problema. Le ciabatte. I miei piedi sono il problema, Conti. Oh, questa la metto tutta dentro, eh. Ma la vuoi dentro? Non la faccio così, almeno. La vuoi davvero dentro? Dai. Ultimo tentativo, Conti. Vero, però, così non l'ha ancora messa dentro. Parla lui. Lui parla. Non l'ha messa dentro. Eh, ragazzi. Non ci credo. Ma non ci credo, dai, ma non è vero. Ora, questo video lo vincerò io. Voi vi chiederete, come si fa a perdere una vita in questo gioco? Un po' e mezzo. No. Ma guarda, adesso vediamo due cose. Eh, divertiamoci. E lo farò io. Lo faranno i concorrenti. Vado. Ti stavano cattivi con te. Sei. Devi spaccarli. Sei. Picchiatelo. Bene, va bene. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Lui è arrivata dritto nei coglioni. Lui non valeva però. Ha fatto malissimo. Lui non valeva, eh. Sapete che è stato molto divertente? Voglio fargli perdere più vita. Però ragazzi, attenzione, perché quando voi perderete la vita, lui sarà il momento per lui di vendicarsi. Ragazzi, ci vediamo tra i dieci minuti. Dai, che palle. Lory. Passa la palla. Il primo passa è sempre vero, Lory. Lory passa. Lory. Lory passa. La vuoi? Sì. La vuoi? Ma ti vedo qua, sì. Aia. Mamma mia. Allora, ragazzi, i loro non sono proprio i più forti del mondo a giocare a caldo, a parte ferro. Quindi adesso noi faremo un torneo di mondialito, dove l'ultimo eliminato perderà un'altra vita. Ditemi nei commenti intanto, secondo voi, chi sarà quello che vincerà e quello che perderà. Ma adesso andiamo. Conti, se io vedo un'altra volta che butti fuori la palla, si opererò. Beccalo in, beccalo in. Si opera, eh. Non lo beccalo in. Si opera. Ragazzi, stico giugno. Ma vedi direttamente Ade. Vedi direttamente Ade con le sue armi. Ragazzi, scegliete un lato del campo. Questo qua, questo qua. Due secondi da io dico quello di Pua. Ora fuori Pua, fuori dalla porta. Ci sarà un mondialito. Io sarò il portiere. Vogliamo giocare con quella palla dei nani. Dei Puffi. Quindi aspetta, siamo due di due o come si segna? Uno di uno di uno, chi segna? Il Puffi sarà l'ultimo che sbaglia, c'è l'ultimo che segna perso. Ok, fantastico. Pronti? Sì. Quindi che devo fare? Gol. 3, 2, 1, gol. 3, 2, 1, gol. Addio. No, l'ho ribassa. L'ho ribassa la palla. L'ho ribassa la palla. L'ho ribeloce. L'ho ribiano. No. Ok. 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 No, dai, non vale, non vale. Balla mia. Non vale, eh. Però non vale così. Vieni, vieni. Vieni, è passata troppo. Vieni, vieni. Nonhésitez che dovete giocare, eh. Attenzione. Attenzione, c'è casino, c'è casino. Un po' un fallo! Qua però c'è un fallo che era poco è uscito. C'è un fallo che la palla è uscito. Come rigore. Eh no, è stato un fallo, è poco spinto. Io non l'ho spinto. Allora, avevo? Stavo per andare dietro. no no io ero proprio dietro dietro vorrei rivederla fabio non nell'altra casa e nella porta è un po' difficile sarà il primo a segnare oppure no come no ragazzi chi perderà questa vita copriamolo ferro eccolo eccolo che parata che parata adesso il nostro pro deve andarla a prendere in piscina si riparte eccolo eccolo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ferro incredibile potrebbe venire no non si rimette davanti alla porta se io non vedo ma io voglio aiutarti eccolo ferro incredibile basta ma che gol è ragazzi incredibilmente la vita la perde ferro un gol incredibile ti ha rispettato tante cose ma non questo ferro tranquillo eh non devi essere così triste ragazzi sapete come si toglie la vita a ferro vero grazie mi prodi a me le armi del male e anche ferro ha perso una vita ragazzi tra i prossimi dieci minuti cosa vuoi riposarci dieci minuti ma soprattutto mi dai dell'acqua anch'io voglio l'acqua proprio in favore acqua vogliono l'acqua ce la giochiamo nella prossima challenge perché io adesso vado a aprire l'acqua era mio frigo acqua però acqua no vai c'è un po' dammi l'acqua apri ok siamo rinfrescati sono stato anche molto gentile prossima sfida ragazzi ci siamo sfidati nella precisione siamo sfidati in un mondialito ora è il momento di vedere chi di voi ha le skill più succose del far west allora la porta sarà libera e voi avrete dieci secondi per fare più skill possibili e fare un gol della madonna io lo voterò chi avrà il voto più alto vincerà la sfida bella è questa io ultimo io primo inventa ok ma si fa così vai uno due tre quattro oh ok questo lo aggiungo io questo lo aggiungo io posso dire conti ti prende un bell'otto un bell'otto va bene signor ho strappato le palle vai qua qua due no ragazzi vabbè sette vabbè posso dire è un trick shot assurdo quanto gli dai scusa? ma qua c'è il meno zero meno due meno quattro ragazzi invece io boa a prezzo di impegno gli do dieci meno nove wow qui sappiamo già il perdente il perdente poi a meno che tu non sbagli anche tu è perché zero uno gli ho dato perché non ha fatto il gol io devi fare il gol faccio il gol ok vai uno bella questa due tre quattro cinque wow sei oddio sette otto bella vabbè e ti prendi anche tu uno eh ma perché non hai visto il saltello alla fine guarda otto e mezzo ragazzi godo e non hai visto il mio allora ragazzi sapete chi ha perso una vita? non io chi sta? oh chi sta? raga mi è stato? dove sono? vabbè prendere le cose del male seconda vita di boa tre due uno via non in faccia non in faccia oh 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 cinque quattro bene bastanti sono fortisti due bastanti uno zero stop mamma mia che potenza è troppo divertente ti scarica anche un po' dalle energie negativi per adesso comunque abbiamo una vita boa due ferro e signori tre conti ricco ragazzi ma sono fortissimo potrebbe vincere la prima challenge in villa de boys let's go ma se fai le 16 minuti più lunghe da mia vita oh 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 prima ci abbiamo bastato eh vai a prenderla conti? eh non posso perdo purtroppo perdo ragazzi hanno buttato la palla in piscina ha buttato ragazzi è il momento della prossima challenge questa volta voglio che tutti voi facciate miscela numerata quindi ragazzi pronti tutti quanti? miscela 3 8 11 quindi 1 2 13 11 ovo giocherà con me ma no ma no attivo attivo il comeback incredibile e questo è un 2v2 a squadre se voi doveste vincere è il primo che arriva a tre gol andreste una vita e due vite se noi dovessimo perdere io sarei eliminato io sarei eliminato sono qua per farti vincere cazzo dai viettivo di oggi vincere esatto la passapowa che passaggio era un rilangolo enorme come una casa ragazzi abbiamo un problema con Conti che prende le palle io le prendo sempre ma non queste f***a voi mi stecco le gambe gli do un calcio fortissimo a destino ahhh è stata pure per uscire dal campo ragazzi si vabbè a angolo camminata un po' le regole no sono un po' di più ci andiamo ci andiamo ci andiamo ci andiamo ci andiamo ci andiamo 1-0 1-0 oh vado eh bravo bravo è incredibile no bravo sono scelto al centro a vero che mi puoi uscire allora almeno quella fa la nostra oh 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 no 0 ragazzi può è super scazzo ecco però è quanto segnato eh una prova oh mio dio oh mio dio my home che cazzo è ito lo vanno a prendere lui può fare qualsiasi cosa cioè invece prende con la mano a questo punto che non lo vanno a prendere cosa che cosa ho a prendere può essere almeno questa Palanotta ok e siamo due a uno vabbè gg eh la sgobbeville ce l'abbiamo ce l'abbiamo il fratello e che è scherzo conti che è scherzo uno due oh che soltanto mi diventa il suo contemperò eh bisogna togliere le vite ai due ragazzini eh è forte è forte qua eh abbraccio i conti 3 2 1 3 4 3 2 1 stop aia ci vediamo tra dieci minuti acqua una per tutti ottima mostra per spiegare acqua per complimenti ha qualche problema no zero ho solamente di estro stai in qualche problema io zero stai in qualche problema vieni di ben in faccia allora loro hanno qualche problema loro hanno davvero tanti di problemi signori belli è il momento della prossima nonché penultima sfida penultima forse per me ultima o per Powa ragazzi sceglietevi una porta torneo di porta a porta uno alla volta uno contro uno bisognerà tirare da porta a porta non vale avvicinarsi si possono usare le mani per parare unica regola se tu dovessi vincere contro Powa Powa non sarebbe eliminato dovrebbe prima sfidare Conti se dovessi vincere contro Conti risfiderebbe te buona dai ragazzi è il primo che fa golla eh ma ragazzi ma che tiro era ma perdonatemi ok dai è il mio anche io raga la verso la porta al su e la tolla sotto raga cerchiamo di non replicare il mio tiro di prima 1-0 ragazzi Ferro passa al primo round Conti contro Powa ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo conti contro Ferro vai 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 Powa si salva Powa poteva perdere definitivamente eh Conti devi vincere contro Ferro se no sei fuori adesso quindi ragazzi è Ferro contro Powa e se dovessi vincere Ferro poi saresti fuori veramente orco brutta storia tanta responsabilità eh bella Powa Caratona Powa potrebbe salvarsi e mandare Ferro fuori il rimbalzino lì attenzione ragazzi potrebbe finire qua ragazzi potrebbe finire qua Ferro butterà fuori Powa o sarà Powa a salvarsi chiusa la tua l'avevo presa zoom cioè zoom era sbagliato rimaniamo soltanto io e Conti con una e tre vite eh puoi uscire ufficiale anche no no è vero bisogna prima toglierti la vita Powa qua tre due uno vai cinque quattro uno zero vivo la mia mano ragazzi non c'ho fatto niente comunque Powa vieni con me Powa metti il piede fuori abbiamo eliminato il primo mancano due ragazzi ed è il momento della finale un classico uno contro uno però questa volta ci sarà un po' di pepe essendo che Conti ha due vite in più rispetto a Ferro durante la partita Conti potrai chiamare un bonus il bonus sarà scambiarti con me per 40 secondi ok ti do questa pari in tre due uno buona ragazzi ovviamente è il primo che arriva a tre golle ve lo ricordo oh 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 mamma mia questa è assurda ragazzi ovviamente ragazzi non sapete che tra 30 secondi si giocherà con la palla grande ovviamente e questa invece è entrata perfetta uno a zero ragazzi Conti un po' di forte ok sfiora il palo signori tra 10 secondi palla grossa 5 4 3 2 1 palla no 0 0 esci Conti esci Conti esci Conti esci Conti 2-1 2-1 chiedo il bonus eh vabbè scatate ti prego Ress si va bene dai su adesso prego Ress con un altro esci Conti let's go ma che bonus è ragazzi bonus cultura che è ragazzi è il momento di chiudere anche Conti Gli attrezzi del mestiere 3 2 1 è super 5 4 3 2 1 stop l'ultimo era l'ultimo Conti vieni con me vieni con me eh non posso metti il piede fuori non posso Conti è finita è finita davvero è finita Conti serio Conti è finita noi Conti e ragazzi abbiamo il vincitore dovete nei commenti viste anche per voi sarebbe stato lui a vincere io la voglio chiudere in una maniera posso uscire ora non è certo io la voglio chiudere in una maniera se l'abbiamo iscrivetevi e droppate un like ci vediamo nel prossimo video